Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Aglio e Roncobilaccio. Sullo stesso tratto in direzione Bologna è vietato il transito ai mezzi pesanti. Sulla A11 in direzione Pisa, rallentamenti per materiali dispersi tra Pistoia e Montecatini. La viabilità cittadina tra Firenze e Scandicci è chiusa per il crollo di un muro via delle Bagnese in entrambe le direzioni presso via della Greve. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali, catene o gomme termiche per la propria vettura. Per un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Firenze e Campo di Marte, i treni regionali potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!